In questa puntata non potevamo non contattare qualcuno da un posto meraviglioso, un piccolo capolavoro, un borgo, Rondine, Cittadella della Pace. Abbiamo in collegamento Skype Noam Pupko, coordinatore del progetto Quarto Anno Rondine. Gli do subito il benvenuto. Bentrovato Noam, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie mille, è un piacere. Allora, Rondine, chi è che non la conosce? O meglio, chi è che non lo conosce? Un borgo piccolino vicino a Rezzo, c'è tanto di Leonardo lì, ma grazie a un'intuizione di Franco Vaccari, che è fondatore e presidente di Cittadella della Pace, questo borgo è aperto a tanti giovani e dà tante possibilità. Tu sei uno di questi, un protagonista di Rondine, Cittadella della Pace. Allora, raccontaci un po' intanto, in breve ovviamente, la tua esperienza lì. Certo. Allora, io sono, grazie per avermi chiamato un protagonista. Sì, lo sei. Perché io ho fatto alcune esperienze a Rondine. Io sono arrivato a Rondine come uno studente per partecipare al progetto Cuore, al primo progetto importante che è quello dello studentato internazionale di Rondine. Il progetto con cui è nata l'associazione oltre vent'anni fa. Un progetto che accoglie e ospita giovani come me, provenienti da paesi di conflitto e post-conflitto armato da tutto il mondo. Quindi ospita copie di nemici, copie di giovani nemici che rappresentano sempre entrambe le parti di un conflitto armato e gli propone la possibilità di studiare insieme, di convivere insieme per due anni e attraverso questa convivenza di superare la logica del nemico, la logica dell'odio e costruire una nuova relazione per poter ritornare nei paesi di appartenenza, ovviamente promuovere questo messaggio diventando protagonisti del cambiamento. Io ho avuto l'onore di partecipare a questo programma più o meno dieci anni fa e dopodiché sono rimasto in Italia e oggi invece sto coordinando il secondo progetto importante di Rondine che è il progetto quarto anno liceale di eccellenza che a differenza del progetto del studentato internazionale questo progetto è dedicato ai giovani liceali italiani. Ecco, hai già anticipato un po' quello che è il tuo argomento principale nel senso che sei coordinatore e ti abbiamo presentato anche con questo titolo di questo progetto in che cosa consiste esattamente, quanti giovani sono coinvolti, come si fa a partecipare se c'è ancora possibilità e qual è poi l'obiettivo finale? Perché sappiamo che Rondine ci tiene tantissimo ai giovani, tu stesso lo sottolineavi, tu stesso sei arrivato dieci anni fa qui in Italia ed eri molto più giovane di adesso anche se lo sei lo stesso ugualmente, dici tutto. Oh grazie, allora il progetto è un progetto che dà una possibilità, opportunità a 27 giovani da tutta Italia a frequentare la loro quarta liceale presso la Cittadella della Pace ovviamente accanto, a fianco, il gruppo dei giovani internazionali di cui ho parlato prima e abbiamo lanciato il progetto cinque anni fa, quindi ora stiamo per partire con la sesta edizione e il progetto cerca di dare a questi giovani da tutta Italia un'esperienza molto importante oltre quella della scuola, perché è un anno di scuola, però oltre alla parte scolastica della didattica e dare a questi giovani sia un percorso di approfondimento che affianca il percorso didattico normale della scuola e questo percorso tratta tanti temi di attualità, tanti temi di importanza tutte le sfide del mondo di oggi e del mondo di domani, quindi dalla questione dell'ambiente alla questione dell'economia, dell'immigrazione, della globalizzazione e cerca di dare a questi giovani competenze e strumenti per poter affrontare in maniera attiva tutte queste sfide per diventare giovani, attivi, consapevoli, cittadini attivi che anche loro possono dopo quest'anno ritornare a loro città, ai loro paesi e anche loro diventare piccoli protagonisti del cambiamento attraverso iniziative, progetti, attivismo e via dicendo. Ecco, protagonisti anche loro, come te e come lo stai facendo adesso protagonisti proprio di un futuro, sono sfide educative che poi sostengono in pratica lo sviluppo delle proprie risorse magari verranno fuori anche con il tempo, non da subito magari qualcuno non sa nemmeno di averli, certi talenti dentro ha bisogno di una mano e magari ecco queste sono le occasioni giuste risorse emotive, relazionali, sociali, culturali Sfide anche venute fuori, forse venute fuori da questo tempo un po' critico, quello del Covid, si è avuta questa esigenza voi che siete lì insomma in prima persona avete sentito questo bisogno da parte dei giovani? Molto, molto sappiamo che quest'anno che abbiamo passato tutti ha colpito in maniera particolare i giovani ha colpito i giovani perché tutti i giovani si sono trovati in una situazione che il loro percorso di crescita è stato interrotto in questa età molto importante per la crescita sia personale ma anche relazionale e professionale possiamo anche vedere, ci sono dei nuovi studi che dimostrano che davvero i giovani hanno avuto un anno molto difficile di pressione, problemi di disagio vari problemi di disagio anche proprio personale, psicologico e hanno bisogno, hanno bisogno di ripartire di ripartire, di riallacciare tutte le relazioni di riallacciare le relazioni sociali e di riprendere il loro percorso il loro percorso di crescita non soltanto individuale ma anche sociale che è un po' quello che vogliamo noi proporre a questi giovani e che è venuto a mancare proprio per via di questa crisi allora Noam, per raccogliere e comunque informarsi basta andare sul sito di Rondine Città della Pace ma ci sono anche le pagine Facebook, le pagine social voglio dire, ampiamente aggiornate per raccogliere tutte le informazioni e poter far parte magari di qualche giovane che ci sta guardando adesso anche della Puglia perché so che c'è un progetto in particolare aperto ai giovani pugliesi dici tutto in pochissimi secondi certo, ecco perché a noi è importante la rappresentanza geografica di tutte le regioni italiane in questa classe e abbiamo ora prorogato il bando in maniera straordinaria solo per i giovani della Puglia per poter trovare anche giovani motivati che vogliono fare questa esperienza dalla Puglia per poter inserirli nella classe futura del quarto anno e vorrei sottolineare che abbiamo anche dei contributi quindi delle borse di studio mirate per giovani della Puglia bene il bando è aperto fino a 30 maggio quindi giovani vai, correte grande, grande possono andare sul sito a prendere tutte le informazioni ovviamente noi siamo a disposizione anche da fare da tramite con Rondine, Cittadella della Pace allora grazie di cuore ma in bocca al lupo per il tuo futuro e a tutti i ragazzi complimenti davvero grazie a voi grazie